Non saresti né il primo né l'ultimo. Cerchio Ifior attraverso Tuglia e Gian, la farfalla. Domanda. A volte sai, è una questione di termini, ci si esprime male. Domanda. Di trovarla, di trovarla qui ed ora. Domanda. E sarebbe comodo trovare l'intenzione qui ed ora. Scifo. E perché no? Non saresti né il primo né l'ultimo a trovarla nel qui ed ora, immediatamente, e a dispetto magari di chi si paluda di misticismo o di religione o di belle parole o di belle azioni. Il fatto è che la comprensione dell'intenzione è una cosa talmente sottile e così difficile da comprendere che sfugge alla vostra razionalizzazione e alla vostra schematizzazione ed è per questo che il discorso nel prossimo futuro dovrà essere portato avanti per capire certe sfumature. Grazie. 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 Grazie.